Pronto? Pronto, sei tu? Sono cinque ore che aspetto di parlarti. Hai bene? Benone! Manon, ho conosciuto un islandese a Parigi, un bell'uomo. Mi ha regalato un magnifico gatto persiano. Che bello il gatto di lui! Beata te che sei a Parigi! Senti, volevo sapere se hai visto François. Chi? François? Sì! Oh, è molto caro, triste. Il mio gatto è più divertente. Grazie!